Buongiorno a tutti e tutte, oggi è giovedì 9 maggio, giorno inaugurale della 36esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino e io sono qui con Stefania Carini e Giovanna Borella per parlare di un libro, un libro che si chiama Le ragazze di Mr. Joe Intanto benvenute Grazie a voi, ciao Grazie mille Bene, allora, insomma senza troppi preamboli, questa è una mattinata molto intensa per voi che presentate appunto questo libro e allora è naturale chiedervi insomma di cosa parla Le ragazze, chi sono queste ragazze di Mr. Joe? Partirei proprio da Mr. Joe, che sei tu Sono io, ciao a tutti, sono Giovanna Borella, in arte, anzi in campo, Mr. Joe Le ragazze di Mr. Joe sono delle ragazze che fanno la scuola di calcio di bimbe nel pallone ma ovviamente romanzata la storia insieme alla mia splendida amica Stefania Carini però alcune storie sono anche un po' quelle che si sono ritrovate un po' nella mia scuola, nelle mie squadre e quindi racconta, penso una delle prime scuole calcio a Milano che si occupa di bambine, donne, ragazze che vogliono giocare a calcio ma non hanno per forza la pretesa di dover arrivare in Serie A e proprio sottolineo la voglia di giocare, che poi sia calcio, sia tennis, pallavolo, ping pong ma è stata un po' dimenticata questa parola, divertirsi, giocare, cioè l'obiettivo finale è quello di giocare, divertirsi quindi è un po' il senso della storia del libro Ecco, quindi è una storia che è una storia vera e Stefania l'ha incontrata ecco, allora ti chiedo come è nata l'idea di farne un libro Guarda, tutto è nato durante il lockdown perché io stavo progettando un sito internet oggetti personali avevo vinto un bando per raccontare quello che accadeva durante la pandemia era un bando europeo che voleva aiutare insomma i giornalisti che come altre categorie potevano avere un po' di difficoltà in quel periodo, noi giornalisti freelance e quindi la mia idea era raccontare il mio quartiere a Milano, Nolo che è un quartiere un po' particolare, a Loreto che è stato oggetto di tante discussioni perché è un quartiere che si sta molto gentrificando cosa accadeva nel mio quartiere in quel periodo durante la pandemia e che idea c'era anche nelle persone di guardare avanti ricordiamoci che è stato un periodo, non è tanto tempo fa ma in cui a un certo punto sembravano quasi non saremmo mai usciti più di casa c'era questa idea molto pessimistica a un certo punto la mia idea era invece di giocare sull'ottimismo ancora e Giovanna che nel quartiere molto conosciuto è proprio questo esempio perché il suo entusiasmo nel allenare le sue ragazze l'aveva portato anche durante il lockdown perché durante il lockdown collegata via internet faceva giocare i ragazzi e le ragazze e le ragazzine di una scuola con la palla di carta e quella era la prima storia di Giovanna ma poi come spesso capita nel raccontarmi la sua vita ho scoperto un'altra cosa cioè che Giovanna è la prima bambina adottata a fine anni 60 dall'India in Italia quindi la prima adozione internazionale e come potete capire è qualcosa che cambia molto sia a livello di adozioni sia a livello di quell'inizio un po' di società multietnica a cui adesso siamo ormai, dovremmo ormai essere più che abituati quindi c'erano due storie importanti che sono state raccontate su questo mio sito e poi sono state riprese sia dal Corriere della Sera da Elena Tevano, una giornalista, sia da Mario Calabresi nella sua newsletter e poi è arrivato il libro è arrivata Mondadori che ha detto questa è una bella storia facciamone una storia anche narrativa quindi nel libro c'è una parte che è la storia reale di Giovanna e una parte che è appunto il racconto di questa squadra ipotetica di sue ragazze in cui ci siamo divertiti a raccontarne tanti episodi che potessero rappresentare un po' tutti le ragazze ma anche i ragazzi che affrontano alcune difficoltà durante il periodo insomma delle medie e l'inizio dell'adolescenza ecco uno dei temi sicuramente di questo libro è il pregiudizio e il suo superamento come l'hai vissuto e come è stato poi in qualche modo collaborare a riuscire a metterlo in un libro a raccontarlo, a farlo arrivare? Eh sì, il pregiudizio è proprio che io ho sempre giocato fin da bambina all'elementare e quindi era sempre stato un effetto doppio bambina di colore e che gioca a calcio quindi l'ho portato avanti sempre proprio per una mia passione un po' come dice anche Stefania una sfida perché subito venivi guardata in un certo modo se giocavi a calcio che in quel periodo non c'era davvero nessuno fino all'età dei miei 40 anni ho trovato poi tre amiche che giocavano ecco ho trovato lo squadrone subito e questo era proprio il fatto anche di togliere questa idea che le ragazze non possono giocare giocare, usiamo il modo di giocare perché poi trovano il modo di dire che non puoi giocare a basket perché è troppo maschilista o non puoi giocare cioè ci trova sempre il modo perché la donna, la ragazza non può giocare allora la mia idea è detto quella di dire vabbè sto crescendo qualcuno poi mi verrà a dire guarda che ormai hai una certa non puoi più giocare, divertiti finché vuoi questa è stata anche un'altra frase che mi ha fatto scattare l'idea di dire no io non smetto sarò io come dico io gioco finché le gambe non mi reggono in piedi quando poi dico basta non ce la faccio per il piede io gioco ancora con le ragazze quindi mi diverto un sacco quando non ho lezioni non dico che sono depressa perché è una parola lunga che non è di casa mia un po' più annoiata sento proprio la mancanza che devo essere attiva fisicamente mi fa stare bene e poi anche il rapporto che ho poi con le mamme e le bambine è molto bello cerco di passargli la mia passione dell'amore del calcio ma non di quello che noi tutti siamo abituati a vedere da fino adesso ma quello proprio di della tua voglia personale di dire ah ma se le trovi comunque tante donne che dicono ah beh comunque non mi sarebbe piaciuto tirare un paio di tiri e nessuno gli ha mai fatto questa domanda quindi io sono qui anche per quello dico fate la domanda anche alle vostre mamme che vi portano quintali di borse le lavano se magari hanno voglia di fare due tiri che sarebbe bello farlo anche con le mamme ecco certo certo ecco un'altra parola chiave mi sembra di questo libro è mettersi in gioco cosa che in qualche modo avete fatto anche voi due con questo libro perché tu Stefania ecco sei una giornalista che si occupa insomma si è sempre più occupata di media di cultura mentre tu appunto sei un'allenatrice di calcio e insomma con lo scrivere con il narrare magari ecco anche per te era una novità e allora vi chiedo una per volta prima Stefania e poi Giovanna come è stato questo mettermi in gioco in questa per questo libro dal mio punto di vista mettermi in gioco è stato un passaggio in effetti proprio di come dire di linguaggio e di adesione alla realtà perché evidentemente io arrivo da un mondo che è quello del giornalismo che deve dovrebbe diciamo attenersi ai fatti che accadono poi accadono dei fatti li possiamo interpretare in maniera diversa ma un fatto può accadere o meno insomma non apro quel dibattito in questo caso c'è stata sicuramente nel libro c'è una parte legata alla realtà che è la storia di Giovanna che apre ogni capitolo raccontata però con un linguaggio un po' favolistico perché mi sto rivolgendo a lettori elettrici ragazzini ragazzine e poi anche perché la stessa Giovanna ha un modo quando mi raccontava la sua storia durante le interviste ha questo tono un po' favolistico e in fondo la sua è anche una bella favola e poi c'era la parte invece legata ai capitoli quindi al racconto di questa squadra inventata e lì io sono passata dalla scrittura reale al racconto al romanzo e quindi insomma c'è stata questa questa dinamica e con Giovanna poi c'era il continuo confronto ovviamente di racconto della sua vita e di racconto di tutte le sue esperienze che dovevano confluire nelle doppie dimensioni ecco per cui c'era tutta l'ispirazione poi dalla sua parte del suo vissuto Giovanna invece per te metterti in gioco appunto partecipando alla scrittura di questo libro con Stefania sei trovata a tuo agio hai scoperto delle cose di te ecco come è stata questa esperienza di messa in gioco è interessante interessante particolare proprio perché era un momento che non potevamo neanche vederci fisicamente io e Stefania quindi anche quello poteva essere una difficoltà ma anche il suo bel carattere il mio siamo andati oltre a questo perché abbiamo passato parecchie volte prima di vederci sarà passato almeno un mesetto abbondante quindi era tutto telefonate cose che noi personalmente siamo abituati a vederci di faccia quindi già è stato nel mio piccolo è stata un'esperienza stupenda perché sì io ho sempre un po' raccontato che ero indiana ci sono stati tanti articoli negli anni fine anni 60 quando io sono arrivata però appunto è stato bellissimo raccontarlo sentendolo poi anche romanzato c'erano delle cose perché raccontavo anch'io delle esperienze in campo io magari le scrivo in un certo modo poi la Stefania che è bravissima le modificava il racconto cioè lei ovviamente aveva questa visione di avvicinarsi molto ai giovani per esempio io scrivevo una roba un po' così e lei l'ha rigirata in un modo che mi sono strabiliata anch'io non so un esempio erano le chat io so che perché anch'io stessa ho le chat con le ragazze ma non avrei mai pensato a un dialogo di chat e lì ha funzionato bellissimo è stato bellissimo perché lei è anche una persona che mantiene quello che tu gli racconti tante volte ti capita tu dici una cosa e quell'altro va da un'altra parte invece ha mantenuto le cose che io raccontavo ma in una maniera che le ragazzine ed è così stata la risposta le ha colpite invece magari anch'io le potevo colpire ma mancava quel fritz che lei ci ha messo in diverse cose sono fritz quindi insomma un bel gioco di squadra anche in questo caso vorrei concludere ecco siamo qui alla salone del libro questa mattina ho sentito anche una parte della vostra presentazione piena di ragazzi molto giovani e allora vi chiedo a tutte e due come è stata l'esperienza del riscontro credo che non sia la prima volta che andate a parlare del vostro libro davanti a un pubblico giovane quali domande vi hanno colpito di più dei ragazzini e qual è un po' la loro reazione di fronte al racconto delle ragazze di Mr. Joe guarda una delle cose che quello che colpisce è evidentemente la passione che c'è a quell'età al di là del nostro libro in generale a me capita anche di andare a fare lezioni nelle scuole e vedi che se inizi a parlargli di loro passioni poi magari non è il calcio in quel momento passi al nuoto c'è una reazione perché tutti noi siamo come dire interessati a raccontare quello che ci piace e quindi da lì parte un certo tipo di racconto per tutti loro e l'altra dimensione che è molto piacevole è quella anche di un affetto verso il libro verso Joe verso di noi verso i personaggi tant'è che spesso ci portano i disegni che è una delle cose più belle che mi è capitata di avere i disegni dei ragazzi e la cosa bella è che quando sono più piccoli è un disegno fatto a mano ultimamente abbiamo fatto un incontro con ragazzi un po' più grandi e ci hanno portato le ragazze fatte con l'intelligenza artificiale e però anche questo dimostra come dire quanto quel mondo lì sia vario vivo vivace frizzo e forse bisognerebbe insomma lavorarci ancora di più perché è proprio reattivo in una maniera che poi spesso ecco dopo un po' dopo una certezà non lo sai più bene allora ecco faccio a te la stessa domanda quali sono le cose che ti hanno più emozionato nell'incontrare il vostro lettore è bello proprio questo riscontro immediato un po' come diceva Stefania che si sentono li vedi che vivono ognuno nella sua storia poi come ho avuto anche il riscontro un po' con le mie giocatrici che arrivano dicendo io sono Claudia tu puoi essere chi vuoi puoi prendere un pezzettino di Claudia puoi prendere un pezzettino di Giulia quindi il bello di questo libro anche che ognuna o magari qualcuna non si identifica e mi dice mister mister ma io dove sono ecco leggiti il libro magari vedrai che anche un pezzettino lo trovi quindi no la risposta infatti abbiamo anche vinto il premio Gianni Mura grazie anche penso a gran parte di ragazze ragazzini studenti il premio viene assegnato proprio dai lettori esatto quindi è stata anche questa una risposta bellissima poi per me è il mio primo libro quindi le ragazze di Mr. Joe edito da Mondadori lo trovate credo in tutte le librerie e quindi insomma per farvi raccontare una bella storia grazie 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 davvero grazie a tutti buona lettura